Salve a tutti amici artisti, in questo video finalmente andremo a vedere questa nuova versione che sarebbe un primo snapshot della futura 1.14. Non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con il video. Ci tengo a precisare che sono sparato in una zona del cazzo, quindi non nella giungla, e quindi ho dovuto fare tutto da solo. Questo snapshot aggiunge fondamentalmente solo 4 cose. I panda, le canne di bambù, le impalcature e i gatti. I panda sono nuovi mob che possono essere pacifici o aggressivi, però può dipendere anche da come spawnano. Loro per riprodursi necessitano di bambù, ed inoltre, cosa molto simpatica, loro possono anche rotolare. Ragazzi, cosa che neanche io mi aspettavo, è spawnato un panda marrone. Le canne di bambù, di loro non sappiamo molto, ma sappiamo per il momento che possono sfamare i panda. Essi possono costruire impalcature, e una volta spaccate possono essere ripiantate. Ragazzi, adesso sta piovendo, e visto che su Minecraft sono dio, aggiusterò il tempo. Porco dio! Le impalcature, come nella vita reale, servono per facilitare la costruzione di altre cose. E solo in MCPE, quando salite, vi comparirà in automatico un tastino anche per scendere. Sui gatti, non c'è nulla da aggiungere, soltanto che per alcuni c'è una texture diversa. Infine, ci sono dei piccoli bug fixes. Spero che questo video a scopo informativo vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate e condividete. Al prossimo! Iscrivetevi al canale!